Buonasera, buonasera, benvenute, benvenuti a Storie Lette. Allora, oggi vi faremo ascoltare, Michele Rigoni ed io, vi faremo ascoltare un brano dall'amante di Marguerite Duras. Di lei cosa possiamo dire? Che è stata un intellettuale molto importante, molto attiva nella vita culturale della Francia nel secolo ventesimo, come si diceva una volta, un intellettuale militante. Ha scritto tante sceneggiature nel corso della sua vita, ha prodotto anche dei film e li ha realizzati come autrice, come regista. Ti ha scritto anche dei romanzi, numerosi romanzi. Uno di questi ha una chiave assolutamente autobiografica ed è quello che vi proponiamo questa sera, si chiama L'amante. Fra l'altro nel corso della sua carriera ha vinto vari premi e il premio Goncourt è un importante premio francese. Cos'altro posso dirvi? Questa è una storia autobiografica ed è legata a un periodo importante della sua giovinezza, della sua adolescenza. Lei era nata, se non ricordo male, nel 1914 in quella che era all'epoca l'Indocina francese, poi sarebbe diventata Vietnam. Quindi l'ambiente in cui si svolgono i fatti autobiografici che sono narrati è appunto quello lì della Indocina francese. Vediamo sempre la vita da adolescente, da giovinetta, di questa giovane donna. Soltanto le prime righe iniziali dei brani che ho colto qui e là, le prime righe iniziali invece sono riferite a quando lei non è più giovane, sono avanti con gli anni e dice esattamente questo. Un giorno, ero già avanti negli anni, in una hall mi è venuto incontro un uomo. Si è presentato e mi ha detto, la conosco da sempre. Tutti dicono che da giovane lei era bella. Io sono venuto a dirle che la trovo più bella ora. Preferisco il suo volto devastato a quello che aveva da giovane. Dunque, adesso ho 15 anni e mezzo. Un traghetto attraversa il Mekong. L'immagine dura per tutto l'attraversamento del fiume. Ho 15 anni e mezzo, non ci sono stagioni in questi paesi, il clima è sempre uguale, affoso, monotono. Siamo in quella fascia calda della terra che non ha primavere, non ha risvegli. Vivo in un pensionato statale a Saigon. Lì mangio e dormo, ma vado a scuola fuori al liceo francese. Mia madre, maestra, vuole che sua figlia faccia il liceo. Quello che per lei era bastato non doveva bastare alla sua bambina. Occorrevano il liceo, l'università e infine il concorso per l'insegnamento di matematica. Ho sentito questo ritornello fin dai primi anni di scuola. Non ho mai immaginato di poter sfuggire al concorso per la cattedra di matematica. Ero felice di darle questa speranza. Mia madre continuava ad architettare l'avvenire suo e dei figli. Un giorno, quando le condizioni non le hanno più permesso di investire sui figli speranze grandiose, si è messa a rimediarne altre, alla meglio pur di avere qualcosa che servisse a riempire il tempo che le stava davanti. Ricordo il corso di contabilità per il minore nei miei fratelli. Tutti gli anni acquistavamo il corso completo della scuola per corrispondenza. Bisognava recuperare, diceva mia madre. Questo durava tre giorni, mai quattro, mai. Buttavamo via tutto quando cambiavamo sede per poi ricominciare da capo nella sede nuova. Mia madre ha insistito per dieci anni, niente da fare. Il mio fratello piccolo è riuscito solo a diventare un modesto contabile a Saigon. Il maggiore dei miei fratelli è stato mandato in Francia alla scuola di Olè, che non esisteva nella colonia, a questo dobbiamo la sua partenza. È rimasto alcuni anni in Francia per frequentare quella scuola e non l'ha mai finita. 15 anni e mezzo. L'attraversamento del fiume. Tornando verso Saigon, capisco cosa sia un viaggio soprattutto al momento di prendere l'autobus e quel mattino ho preso l'autobus a Sadek, dove mia madre dirige la scuola femminile. Sono finite le vacanze scolastiche, quali non ricordo. Ero andata a passarle nella casetta di mia madre, la casa della direttrice, e quel giorno torno a Saigon nel collegio. L'autobus per gli indigeni parte dalla piazza del mercato di Sadek e, come al solito, mia madre mi accompagna e mi affida al conducente, mi affida sempre ai conducenti degli autobus di Saigon, nella eventualità di un incidente, un incendio, di uno stupro, di un abbordaggio di pirati o una catastrofe del traghetto. Come al solito l'autista mi fa sedere davanti vicino a lui, nei posti riservati ai passeggeri bianchi. Stiamo dunque attraversando un braccio del Mekong sul traghetto tra Binlog e Sadek, nella grande pianura di fango e di riso del sud della Cochincina, la pianura degli uccelli. Scendo dall'autobus e mi avvicino al parapetto, guardo il fiume. Mia madre mi dice che a volte che mai in tutta la vita vedrò fiumi belli come questi, grandi, selvaggi come il Mekong e i suoi bracci che scendono verso gli oceani, distese d'acqua che spariscono nelle profondità degli oceani. Nel paesaggio piatto a perdita d'occhio questi fiumi scorrono veloci, si riversano in mare come se la terra si inclinasse. Scendo sempre dall'autobus quando arriviamo sul traghetto, anche di notte, perché ho paura che i cavi cedano e la corrente ci trascini via. Guardo la corrente come per cogliervi l'ultimo istante della mia vita, abbastanza forza per portare via tutto, le pietre, una cattedrale, un'intera città. Ho un vestito di seta naturale, lisa, quasi trasparente. Prima era di mia madre, un giorno ha smesso di portarlo perché le sembrava troppo chiaro e me lo ha regalato. È un vestito senza maniche, molto scollato, di quel color bistro che prende la seta naturale usata. Ricordo quel vestito, trovo che mi sta bene. Mi sono messa una cintura di cuoio in vita, forse una cintura dei miei fratelli. Non ricordo le scarpe che avevo in quegli anni. Ricordo solo qualche vestito. Porto quasi sempre sandali di tela senza calze. Parlo del tempo precedente al collegio di Saigon. Da quel momento in poi naturalmente ho sempre portato scarpe. Quel giorno dovevo avere quel famoso paio di scarpe di lame dorato con i tacchi alti. Non so che altro avrei potuto calzare quel giorno, allora porto quelle. Saldo di saldi che mi ha comprato mia madre. Porto scarpe di lame per andare al liceo. Vado al liceo con scarpe da sera decorate con un motivo di strass. Sono io che lo voglio. Mi accetto solo con quel paio di scarpe e anche ora voglio vedermi così. Sono le prime scarpe con il tacco della mia vita. Sono belle, hanno ecclissato tutte quelle che le hanno precedute. Scarpe per correre, per giocare, basse, di tela bianca. Ma quel giorno non sono le scarpe la nota insolita, inaudita nell'abbigliamento della ragazza. Quel giorno porta in testa un cappello da uomo con la tesa piatta, un feltro morbido di colore rosa con un largo nastro nero. A creare l'ambiguità dell'immagine e quel cappello. Come fosse capitato in mio possesso, l'ho dimenticato. Non vedo chi potrebbe avermelo dato. Credo che me l'abbia comprato mia madre e su mia richiesta. Unica certezza è un saldo di saldi. Come spiegare quell'acquisto. Nessuna donna, nessuna ragazza porta cappelli da uomo nella colonia a quei tempi. Neppure le indigene. Ecco come deve essere successo. Mi sono provata quel cappello tanto per ridere. Mi sono guardata nello specchio del negozio e ho visto sotto il cappello maschile la magrezza ingrata della mia persona, difetto dell'età, diventare un'altra cosa. Ha smesso di essere un dato grossolano e fatale della natura. È diventato l'opposto, una scelta che contrastava la natura, una scelta dello spirito. Improvvisamente è diventata una cosa voluta. Mi vedo un'altra, come sarebbe vista un'altra dal di fuori, a disposizione di tutti, di tutti gli sguardi, immessa nella circolazione delle città, delle strade, del piacere. Prendo il cappello, me lo metterò sempre. Ormai posseggo un cappello che da solo mi trasforma tutta. Non lo abbandono più. Per le scarpe deve essere successa più o meno la stessa cosa, ma dopo il cappello. Lo contraddicono come il cappello contraddice la figura gracile, quindi fanno per me. Anche quelle non le abbandono più. Vado ovunque con quelle scarpe, quel cappello, fuori, con ogni tempo, in tutte le occasioni, in città. Sul traghetto, guardatemi, lì ho ancora, quindici anni e mezzo. Ho già cominciato a truccarmi. Adopero la crema Tocalon per cercare di nascondere le lentiggini che ho sulle guance in alto, proprio sotto gli occhi. Dopo la crema metto una cipria chiara marca Ubigan. È la cipria che mia madre usa per andare ai ricevimenti dell'amministrazione generale. Quel giorno ho anche il rossetto, rosso scuro come si usava allora, rosso ciliegia. Non so come me lo fossi procurato, forse la mia amica Elène lo aveva rubato per me a sua madre, non ricordo più. Non ho profumo. In casa nostra si adopera l'acqua di Colonia e il sapone Palmolive. Sul traghetto, accanto all'autobus, c'è una grossa limusine nera con un autista in livrea di cotone bianco. Sì, è proprio una grossa auto lugubre, la Morris Leon Bollet. C'è ancora il vetro scorrevole tra l'autista e il padrone. Ci sono ancora gli strapuntini, è ancora grande come un salotto. Dalla limusine un elegantissimo signore mi guarda. Non è un bianco, ma è vestito l'europea, con il completo di tussor chiaro che indossano i banchieri di Saigon. Mi guarda. Io ci sono abituata. Nei paesi coloniali tutti guardano le bianche, anche se sono bimbette di dodici anni. Da tre anni anche i bianchi mi guardano per strada e gli amici di mia madre mi invitano affettuosamente ad andare a far merenda da loro quando le mogli sono al club sportivo a giocare a tennis. Porterei illudermi, credere di essere bella, di appartenere alla categoria delle donne belle e ammirate, perché davvero tutti mi guardano. Ma io so che non si tratta di bellezza, ma di qualcos'altro, di qualcosa di diverso, che appartiene forse allo spirito. Sono come voglio apparire, anche bella se gli altri lo vogliono, o carina, carina diciamo per i familiari, per loro e basta. Insomma, posso diventare come gli altri vogliono che sia e crederci, anche credere che sono affascinante e dal momento che lo credo so anche farlo diventare vero agli occhi di chi mi vede e desidera che io sia di suo gusto. Ho imparato già qualche cosa. So che a far bella una donna non sono né i vestiti, né le cure di bellezza, né il prezzo degli unguenti, né la rarità, il valore intrinseco degli ornamenti. So che il problema è un altro, ma non so quale sia. Non è quello che credono le donne. Le guardo nelle vie di Saigon o nelle località sperdute della savana, ce ne sono di bellissime, bianchissime, tutte curano molto il loro aspetto, soprattutto nei posti sperduti. Non fanno nulla, cercano di mantenere la loro bellezza, di conservarla per l'Europa, per gli amanti, per le vacanze in Italia, per le lunghe ferie di sei mesi ogni tre anni, quando finalmente potranno raccontare quello che succede quaggiù, questa vita in una colonia così strana, parlare di com'è servizievole questa gente, di quanto sono bravi i boys, della vegetazione, dei balli, delle ville bianche, tanto vaste che ci si perde, dove abitano i funzionari nominati nelle località sperdute. Aspettano, si agghindano per niente, si risparmiano. Nell'ombra delle ville si conservano per dopo, credono di vivere in un romanzo con i grandi armadi pieni di vestiti da non sapere che farne e che esse collezionano come collezionano la fuga di quei giorni di attesa. Alcune impazziscono, altre vengono piantate per una servetta che sa tacere. Piantate. Questa parola, quando le colpisce, ha un suono spaventoso, il suono di uno schiaffo. Alcune si uccidono. Questo mancare delle donne a se stesse l'ho sempre sentito come un errore. Non c'era da attirare il desiderio. Il desiderio era in colei che lo provocava o non esisteva. C'era fin dal primo sguardo o non era mai esistito. Era l'immediata intesa sessuale tra due persone o non era niente. La ragazza con il cappello di feltro è immersa nella luce rimacciosa del fiume, sola sul ponte del battello appoggiata al parapetto. Il cappello da uomo dà un tocco di rosa a tutta la scena e la sola nota di colore. Nel sole brumoso, il sole dell'afa, le rive non si vedono, sembra che il fiume tocchi l'orizzonte. Scorre, sordo, senza far rumore, come sangue che circoli nelle vene. Non c'è vento sull'acqua. Non ci sono rumori, fuorché quello del traghetto, il rumore di un vecchio motore sfasciato con le bronzine fuse. Di tanto in tanto, a leggere folate, delle voci. E poi giunge da tutte le parti, da dietro la nebbia, da tutti i villaggi, la baiare dei cani. La ragazza conosce il traghettatore fin da quando era bambina. Egli le sorride e le chiede notizie della signora direttrice, dice che la vede spesso sul traghetto. La ragazza risponde che la madre sta bene. Intorno al traghetto il fiume è gonfio, le sue acque rapide attraversano le acque stagnanti della risaia senza mescolarvisi. Trascina con sé tutto quello che ha trovato, fino a quanto scorreva nella foresta cambogiana il ton le sap. Porta via quel che capita, capanne, foreste, incendi spenti, uccelli morti, cani morti, tigri, bufali, bufali annegati, uomini annegati, stracci, isole agglutinate, digiacinti d'acqua, tutto che fluisce verso il Pacifico senza avere il tempo di andare a fondo, tutto che viene trasportato dalla tempesta profonda e vertiginosa della corrente interna, tutto che viene mantenuto in sospensione e alla superficie della forza del fiume. Il signore elegante è sceso dalla limusina, fuma una sigaretta inglese, guarda la ragazza con il cappello da uomo e le scarpe d'oro, le si avvicina lentamente. È palesemente intimidito. Non sorride subito, prima le offre una sigaretta. Gli trema la mano. Trema perché non è bianco e c'è la diversità razziale da superare. Lei gli dice che, grazie, non fuma, non aggiunge altro, non dice mi lasci in pace. Allora lui si rassicura, gli dice che vedendola ha creduto di sognare. Lei non risponde, non va la pena di rispondere, non saprebbe che cosa rispondere. Aspetta. Allora lui le chiede, ma da dove viene? Lei risponde di essere la figlia della maestra della scuola femminile di Seidek. Lui riflette e poi dice di aver sentito parlare di quella signora, di sua madre. Ripete che è veramente sorprendente vederla su quel traghetto. Di mattino presto, una bella ragazza come lei, capisce, non me lo sarei mai aspettato, una ragazza bianca su un autobus indigeno. Le dice che quel cappello le sta bene, benissimo, e che è originale, un cappello da uomo, perché no? Carina com'è, può permettersi tutto. Lei lo guarda, poi gli chiede chi è. Lui risponde che torna da Parigi, dove era andato a studiare, che abita anche lui a Seidek, proprio sul fiume, la grande casa che ha le terrazze con le balaustre di ceramica azzurra. Lei gli chiede di che nazionalità è. Risponde di essere cinese. La sua famiglia viene dalla Cina settentrionale, da Fuxuan. Permette che l'accompagni a Saigon, a casa? Lei accetta. Egli ordina l'autista di prendere dall'autobus i bagagli della ragazza e di metterli sulla limusine nera. Cinese. Fa parte di quella minoranza di finanzieri cinesi che posseggono tutti gli edifici popolari della colonia. La ragazza entra nell'auto nera, la portiera si chiude. Alita un tratto, una impercettibile angoscia, un affanno. La luce sul fiume si vela, ma appena. Qualcosa di smorzato, una nebbia. Dappertutto. Fin dal primo istante si rende conto di averlo in suo potere. Dunque, anche altri potrebbero cadere così in suo potere se se ne offrisse l'occasione. Lei sa anche qualcosa d'altro che è giunto ormai il momento in cui non può più sottrarsi agli obblighi che ha verso se stessa e che di ciò la madre non deve sapere nulla e neppure i fratelli. Lo ha capito quel giorno. Appena è salita sull'auto nera, l'ha saputo. Si sente lontana da quella famiglia per la prima volta e per sempre. Ormai non devono più sapere che ne sarà di lei. Anche se qualcuno la prende, la porta via, la ferisce, la sciuppa, la madre e i fratelli non devono più saperlo. Questo è il loro destino e lei già ne piange sulla limosina nera. La ragazza adesso dovrà affrontare quell'uomo, il primo, colui che è comparso davanti sul traghetto. È arrivato presso quel giorno, un giovedì. È venuto come i giorni precedenti a prenderla all'uscita del liceo per accompagnare al pensionato e poi una volta è venuto al pensionato un giovedì pomeriggio e l'ha portata con sé nell'auto nera. Sono a Cholen, dalla parte opposta rispetto ai viali che collegano la città cinese al centro di Saigon, quelle grandi strade all'americana sulcate dai tram, i risho, gli autobus. È il primo pomeriggio, così lei non sarà costretta a uscire in fila con le altre ragazze del pensionato. È un quartiere a sud della città. La casa è moderna, mobiliata sommariamente, in stile Liberty. Lui dice «I mobili non li ho scelti io». La stanza è al buio, lei non gli chiede di aprire le finestre. Non prova nessun sentimento preciso, non odio e neppure ripugnanza. Allora forse è desiderio. Non lo sa. ha accettato di andare appena lui glielo ha proposto, la sera prima. Ora è lei e dove deve essere come un oggetto spostato. Ha un po' di paura perché si aspetta di averla e perché nel suo caso dovrebbe proprio succedere così. È attentissima all'aspetto delle cose, la luce, al baccano della città in cui la camera è immersa. Lui trema. Prima la guarda come aspettando che parli, ma lei non parla. Lui allora non fa neppure un gesto. Non la spoglia. Dice di amarla pazzamente. Lo dice a voce bassa, poi tace. Lei non risponde. Potrebbe rispondergli che non lo ama. Non dice niente. A un tratto lei sa. In quell'istante sa che lui non la conosce, che non la conoscerà mai, che non avrà mai modo di conoscere un essere tanto perverso, che non potrà mai riuscire ad afferrarla. È lei che deve sapere. Lei sa. Proprio perché lui lo ignora. Tutto a un tratto lei sa. Le era piaciuto già sul traghetto. Le piace. Tutto dipende da lei. Gli dice. Vorrei che non mi amassi. E se mi ami, vorrei che facessi come con le altre donne. Lui la guarda spaventato, domanda. È questo che vuoi? Lei risponde di sì. E lui soffre già in quella camera, per la prima volta su questo. Certo, non mente. Le dice di sapere già che lei non lo amerà mai. E lei lo lascia parlare. Dice forse. Poi lo lascia parlare ancora. Dice che è solo. Atrocemente solo con quel suo amore per lei. Anche lei gli dice che è sola. Non dice con che cosa. Lui dice mi hai seguita fino a qui come avresti seguito chiunque. Lei risponde che non può saperlo, che prima d'ora non aveva mai seguito nessuno in una camera. Gli dice di non parlare, di fare come fa di solito con le donne che porta nella sua garçonniera. Lo supplica di fare nello stesso modo. Le toglie il vestito e lo getta lontano. Le strappa di dosso le mutandine di cotone bianco e la porta così nuda sul letto. Poi si gira dall'altra parte e piange. E lei calma, paziente, lo tira verso di sé e comincia a spogliarlo. A occhi chiusi. Lentamente. Lui vorrebbe aiutarla. Lei gli chiede di non muoversi. Lasciami. Dice che vuol farlo lei. Lo fa. Lo spoglia. Lui si limita a spostarsi un po' nel letto quando lei glielo chiede, ma appena, delicatamente, come per non svegliarla. La pelle è suntuosamente morbida. Il corpo, un corpo magro, senza forza, senza muscoli, come dopo una malattia convalescente, imberbe, senza virilità, se non quella del sesso, è debole, disarmato, sofferente. Lei non lo guarda in viso. Non lo guarda affatto. Lo tocca. Tocca la pelle liscia del sesso, il corpo dorato, la sconosciuta novità. Lui geme. Piange. È innamorato in modo abominevole. Lei, piangendo, lo fa. Prima c'è il dolore, poi quel dolore viene sopraffatto, trasformato, strappato via lentamente, portato verso il piacere, avviluppato adesso. Il mare, sconfinato, semplicemente incomparabile. Mi domando come ho trovato la forza di fare la cosa proibita da mia madre con tanta calma e tanta determinazione. Come ho potuto andare fino in fondo. Ci guardiamo. Lui bacia il mio corpo, mi chiede perché sono andata da lui. Dico che dovevo farlo, che ero come obbligata a farlo. Per la prima volta parliamo. Gli racconto dei miei fratelli, dico che non abbiamo più un soldo, più niente. Lui conosce il fratello maggiore, l'ha incontrato nelle fumerie del posto. Dico che quel fratello per andare a fumare deruba mia madre e i domestici. Mi accorgo di desiderarlo. Prova pena per me. Io gli dico no, non sono da compiangere. Nessuno lo è. Mi dice sei venuta con me perché sono ricco. Gli dico che lo desidero con me con il suo denaro, che quando l'ho visto era già in quell'auto circondato dalla ricchezza. Non posso sapere che cosa avrei fatto se fosse stato diversamente. Dice vorrei portarti via, andarmene con te. Gli dico che ancora non potrei lasciare mia madre senza morire di dolore. Dice che non ha avuto fortuna con me, ma chi dirà mi darà comunque del denaro. Posso stare tranquilla. si sdraia di nuovo e rimaniamo in silenzio. Il rumore della città è fortissimo. Lo risento come il sonoro di un film tenuto troppo alto, assordante. Ricordo bene, la stanza è in penombra circondata dal frastuono continuo della città, fluttuante nella città. Rimaniamo in silenzio. Non ci sono vetri, alle finestre solo tende e persiane. Gli zoccoli di legno ci rimbombano in testa, le voci sono stridure. La lingua cinese è una lingua gridata, come mi sono sempre immaginata le lingue dei deserti. Una lingua incredibilmente remota. Fuori il giorno finisce. Si sente dal rumore delle voci e dei passi sempre più fiti. È una città di piacere che vive soprattutto di notte, e la notte comincia quando il sole tramonta. Tra il letto e la città ci sono solo le persiane a stecche e le tende di cotone. Nessun materiale compatto ci separa dalla gente. Essa ignora la nostra esistenza. Noi percepiamo un po' della sua, l'insieme delle voci, dei movimenti. Odori di zucchero caramellato arrivano fino a noi, di noccioline tostate, di minestra cinese, di carne, arrosto, di erbe, di gersomino, di polvere, di incenso, di brace. Mettono il fuoco nelle ceste e lo vanno a vendere per strada. L'odore della città è uguale a quello dei villaggi della savana, a quello della foresta. Lo vedo tutto a un tratto con indosso un accattatoio nero. Se ne sta seduto bevendo whisky, fumando. Mi ha detto che avevo dormito e che lui intanto aveva fatto la doccia. Ero piombata nel sonno senza quasi accorgermene. Ora sul tavolino la lampada è accesa. È un abitudinario, penso improvvisamente. Deve venire abbastanza spesso in questa camera, un uomo che deve far spesso l'amore, un uomo che ha paura, che fa spesso l'amore per vincere la paura. Gli dico che mi piace pensare che abbia molte donne e che io sia una, confusa tra le tante. Ci guardiamo, ha capito cosa voglio dire. A un tratto, uno sguardo alterato, falso, intrappolato nel male, nella morte. Gli dico di avvicinarsi, di ricominciare a prendermi. Si afficina, sa, di tabacco inglese, di profumo di lusso, di miele. La pelle ormai ha preso l'odore della seta, l'odore fruttato del tussero di seta, l'odore dell'oro. Lo desidero. Gli dico il desiderio che ho di lui? Aspetta, dice. Mi parla. Dice di aver capito subito, fin dall'attraversamento del fiume, che sarei stata così dopo aver fatto l'amore, che avrei amato amare. Dice di sapere già che lo ingannerò, che ingannerò tutti gli uomini che avrò, e che lui è stato lo strumento della propria infelicità. Diventa violento, un sentimento disperato lo scuote. Mi si getta addosso, morde i seni di bambina, grida, insulta. Chiudo gli occhi per l'intensità del piacere. Penso, è abituato, non fa altro nella vita. Fa solo l'amore, è solo questo. Le mani sono abili, meravigliose, perfette. Sono fortunata. Evidentemente è come se per lui fosse un mestiere. Senza saperlo sa con esattezza che cosa deve fare, dire. Mi tratta da puttana, da schifosa. Dice che sono il suo unico amore. Questo deve dire. Questo si dice quando si dà libero corso alle parole, quando si lascia il corpo fare, cercare, trovare, prendere quel che vuole. Tutto va bene, senza residui. I residui vengono occultati. Tutto è trascinato dal torrente, dalla forza del desiderio. Il rumore della città è vicino. Si strofina contro il legno delle persiane. Sembra che la gente attraversi la stanza. Accarezzo il suo corpo in quel rumore, in quel via vai. Il mare, l'immensità che si accavalla, si allontana, ritorna. Gli avevo chiesto di farlo ancora e ancora, di farmi così, l'aveva fatto. Ed era stato proprio come morire. È stato come morirne. Mi fermo con le parole di Marguerite Duras nell'Amante. Spero che la mia lettura vi abbia incuriosito e vi spinga a cercare questo libro e a completarlo nella lettura. Mi è stato tratto anche un film. Intanto, nel ringraziarvi e la vostra attenzione, vi ricordo che domani, ancora non abbiamo pubblicato il calendario dei prossimi giorni, lo faremo nelle prossime ore, vi proporrò un libro di Boris Pahor, Qui è proibito parlare. Grazie ancora, vi auguro una bellissima serata e restate sempre vicini a Storie Lette. Grazie.